Rosà. A dieci mesi dalla scomparsa si cerca ancora disperatamente Luciano Bizzotto, l'escursionista 55enne di Rosà, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 6 agosto. I familiari dell'uomo non si vogliono arrendere e proseguono con la loro attività di ricerca. Bizzotto, lo ricordiamo, è sparito nella Val delle Comelle. In questi giorni sono riapparse locandine e numeri telefonici proprio nei punti più turistici. Con la stagione che si riapre, infatti, la famiglia spera di avere qualche notizia utile al suo ritrovamento.